eccoci qua anche questa sera ciao roberta buongiorno buongiorno effettivamente grazie la luce artificiale potrebbe sembrare giorno ma siamo a pochi chilometri vista di distanza io e te in realtà e c'è già il grande picchio ma picchio straordinario guarda anzi adesso stava giustanza che avevo scritto chiccherata ho condiviso questa diretta avevo scritto chiccherata e ho corretto adesso grande picchio ciao tra l'altro io non leggerò i commenti se non quelli che metterei tu quindi sarei tu che saluto tutti comunque ecco saluto lì di musso da capanzaro alberto milesi carissimo guarda c'è già una fauna di amici che gianni da verona ballini grande gianni e vabbè allora i più cari ci sono proprio arrivano tutti stasera che giorni è oggi roberta allora se non sbaglio oggi è il 21 dicembre 2021 perché anche l'anno diciamo lo sai qualcuno magari dieci minuti fa dieci minuti fa era il 20 erano le 21 e 21 del 2021 e che è successo sarà successo ero qua ero qua ero qua in attesa di collegarmi vedi ero in attesa da giocare eventualmente all'otto volendo questa è la chiacchierata numero 354 complimenti quindi ne fai quasi un al giorno un al giorno e a volte anche due per recuperare i buchi che ho creato nell'arco di quest'anno beh complimenti un guinness dei primati quindi caro miraggio di lux lucio comunque insomma il tuo nome è lucio però noi ci conosciamo con i nomi origini cioè con il mio nome originale il tuo è roberta quindi è scritto anche sotto per vedi scritto anche lì allora quando ci siamo conosciuti la prima prima volta allora guarda io ho una memoria strana nel senso che ho una memoria che secondo me non segue il flusso temporale magari una cosa che è successa dopo me la metto prima quindi io so sbagliando perché io dico che ci siamo conosciuti a uno spettacolo insieme a Federico Rampini dal vivo dove tu sei venuto a fare delle foto quello lì era tre anni dopo in realtà ci siamo conosciuti tre anni prima ti faccio vedere dove al Bravo Caffè forse vediamo ah Roxy Bar beh che bello queste sono foto tue tutte tue niente tu non hai mai visto no ma queste me le devi inviare se non c'è un copyright particolare questa è bellissima ebbè allora ci siamo conosciuti a Roxy Bar vedi esatto però in quell'occasione in quell'occasione però appunto era più un'occasione magari corale poi c'è stato modo anche di vederci proprio in pochi quindi mi ricordavo più dopo tiro fuori l'altra l'altra foto e poi c'è stato anche un evento al Bravo Caffè a Bologna vedi Bravo Caffè l'avevo detto l'avevo detto poco fa che ricordavo forse anche lì però vedi come prima cosa nella memoria collocavo allo spettacolo di Federico perché lì mi hai mandato le foto esatto era il 29 marzo 2015 ho visto prima ah ecco no dico se se lo ricorda a memoria è quasi grave no no è arrivata anche Ivana carissima Ivana buonasera e quando è la prima volta che hai iniziato a cantare Roberta? allora posso risponderti in due modi diversi io cantavo già da piccolissima tant'è vero che i miei genitori mi dicono che quando avevo 3-4 anni a tavola mentre mangiavo cantichiavo cioè accennavo delle melodie a bocca a volte chiusa a volte a me aperta forse però insomma piccola e poi no modo più compiuto diciamo quando ho cominciato a studiare pianoforte avevo 4 anni e mezzo 5 e poi c'è una registrazione buffa di me insieme a mio padre dove cantiamo insieme la casetta in Canada e io a un certo punto gli dico zitto zitto che volevo cantare io secondo me avvertivo che un po' stonava quindi ho iniziato molto presto sto cercando altre foto ah beh certo e il look che hai adesso quando è nato? allora il look che ho adesso nel senso stasera è un look strano cioè nel senso ho questa pelliccetta ma perché sono molto freddolosa anche se è caldo quando sto ferma quando mi fermo a freddo automaticamente quindi il look di stasera tu immagino intende il look in generale mio di adesso ma non so in realtà dare una come posso dire una collocazione anche lì del mio look perché è sempre variabile diciamo che in questo periodo ho il capello lungo è l'unica cosa fissa perché il capello tanto più è lungo tanto più non lo cambi però diciamo che sono un po' più dark forse in questo periodo come look c'è un po' più di nero un po' meno colore banalmente direi che i colori li porto dentro ecco è una frase abbastanza forse anche banale però è vero cioè nel senso io amo i colori ma nell'ultimo anno forse in questi ultimi mesi uso spesso il nero che comunque trovo sia un colore anch'esso bellissimo non so se la risposta è giusta insomma se ho colto la domanda io ho anche questa foto qua che già avevi il capello nero cioè l'hai sempre avuto pellicciotto e corto però il capello ah esatto beh io sono un amante del caschetto eh e nulla toglie che probabilmente non ci ritorni prima o poi perché è pratico eh e tra l'altro comunque avere un capello cioè avere un taglio piuttosto che un altro un po' ti cambia la percezione di te stesso sono sempre io però effettivamente cambia cioè se io mi vedo adesso perché mi volendo mi vedo anche qua in questa camera e vedo me col capello corto mi rendo conto che arrivo in modo diverso anche a chi mi guarda diciamo che me lo dovresti dire tu come mi percepisci col capello lungo corto cioè cosa ti salta all'occhio come differenza ti arriva una differenza anche un po'? no no cioè vabbè io ti conosco da anni e quindi io guardo alla persona difatti la domanda che ti volevo fare dopo era quanto è importante in quest'epoca come uno si pone a cantare riguardo in confronto alla musica cioè fa più effetto come uno si veste come uno si come uno si trucca oppure effettivamente come uno canta allora è una domanda molto interessante la risposta tanto più complessa diciamo che la prendo così intanto dipende qual è il pubblico perché c'è un pubblico che si lascia più facilmente impressionare magari da look insomma diciamo così dalle piume dagli abbagli e ci può essere un look che è più diciamo così interessato ad ascoltare diciamo che quest'epoca che ci espone molto all'immagine è un'epoca che guarda più che ascoltare quindi credo che in qualche modo che la cosa mi piace o meno avere anche diciamo così un'immagine che accompagna la performance di un certo tipo possa aiutare allora nel mio caso a suggestionare chi mi ascolta faccio un esempio cioè volessi cantare una canzone in cui parlo non so dell'uccello del paradiso fossi vestita di piume tutta colorata so che l'effetto performativamente cambierebbe io sicuramente sul palco so che voglio portare sempre come posso dire un bagliore qualcosa forse sì mi porto dietro l'anima di un uccello che con le sue piume deve danzare per stupire far meravigliare gli altri ma della stessa meraviglia di cui io mi stupisco ogni giorno perché sono una persona che si meraviglia del creato delle cose intorno a me quindi secondo me il palco è un momento in cui portare sicuramente l'anima anche senza filtri anche in modo nudo cioè non è detto che ogni giorno non salga sul palco con un sacco di juta però mi piace anche un po' l'idea della performance e anche dello show cioè non l'abbandono del tutto per quanto mi sento di essere un artista che cerca di stare attaccata all'anima più che all'apparenza eppure l'apparenza è un gioco che mi diverte molto quindi pur se l'anima è la prima cosa anche il vestito in qualche modo è un aiuto che puoi dare per la rappresentazione di quello che stai cantando di quello che stai donando al pubblico quando incominci il tour che voglio venirti a vedere anche il pubblico di Radio Stay Rock allora dipende quale tour picchio perché intanto questo va detto siamo in un momento in cui anche le date fissate magari di concerti o spettacoli sono esposte al dubbio covid cioè nel senso diciamolo adesso tra nel giro di una settimana sapremo se quest'inverno si potrà suonare continuare diciamo così a far festa oppure se dovremo rifermarci posso dire che diciamo ci sono tre situazioni aperte in ballo uno è proprio il tour legato all'album canzoni da museo che è uscito il 3 settembre che dovrebbe avere una prima data al museo della musica di Bologna ma dobbiamo fissarla e sicuramente ci sarà una data so già a San Giorgio di Piano in un posto molto bello intorno a febbraio adesso non mi chiedere le date perché non sono preparata stasera tutte le date poi ci sarebbe lo spettacolo con Ernesto Assante col quale dovremmo debutare a Monte Carlo al teatro di Varietè il 20 gennaio ma anche quello chissà ce la faremo e poi dovremmo portarlo anche il 4 marzo a Bologna al laboratorio San Filippo Neri quindi io e insieme a Ernesto Assante poi ci sarebbero anche le date da riprendere con Federico Rampini però come potete capire da questo mio riassunto che con l'augurio che tutto possa riprendere alla grande che si aggiungano chiaramente nuove date in primavera non ho certezza di quello che vado dicendo quindi incrociamo le dita seguitemi sui social perché vi aggiornerò di volta in volta purtroppo preferisco non mettermi a dare delle date certe laddove purtroppo al momento certezza non c'è quindi di volta in volta vi aggiornerò sperando che si possa credo che sarà più la primavera diciamo l'estate il momento comunque legato al mio tour più attivo per il resto fortunatamente avrò anche altri impegni che mi legheranno anche sul set anche in altre situazioni e quindi in qualche modo lavorerò però il live sarà un po' sacrificato il sacco di iute è fantastico dice Alberto Muglisi poi arriva Sara Letizia e anche Alessandro Tarducci ah è un artista Alessandro Tarducci dipinge un pittore forse lo conosci anche tu che anche lui è anche un allegro frequentatore del Roxy Bar è arrivato il suo nuovo disco è disponibile acquistarlo? allora in realtà eh sì si può già acquistare sul sito www.ielo-music.it ma sui miei social tornerò ad indicarlo anzi sappiate che sono in ritardo con la consegna perché eh avevo già predisposto un pre-order quindi molti fan compreso Picchio compreso Gianni insomma delle persone che ho visto comparire prima l'hanno già acquistato eh dovevano arrivarmi il 9 dicembre questi cd in modo tale che io potessi spedirli ma il covid ha rallentato anche la distribuzione della carta quindi la stamperia che deve stampare i cd è indietro proprio oggi sarebbe dovuto arrivare il ritardo il pacco con i cd da autografare e spedire ma penso che mi arriverà domani quindi se domani tutto va bene io dovrei riuscire a spedire i cd e questo è però si possono ordinare perché poi insomma si possono già ordinare immagino insomma che da qui a una quindicina di giorni al massimo dovrebbero arrivare a chi li ordina di volta in volta ah ecco questa questa me la ricordo questa sera questo è un aneddoto che se te lo racconto non ci crederai ti ricordi ricordo questa serie bellissima di foto che avevi scattato mi piaceva una foto dove si vedevano anche le scarpe avevo queste delle scarpe rosse adesso la cerco ma è bella anche questa mi ricordo che poi era una serata c'era credo anche Pietro Posani quella serata il chitarrista e ho cantato la via rose quella serata tra le varie oltre al mio repertorio e si qua io ti portai il il nastro di Miraculous mi ricordo la bambolina che era simile a me sembravo io vero vestita uguale e l'aneddoto è che Miraculous quel proprio col nastro e tutto l'ha fatto una mia amica di Roma che ho conosciuto tramite Clubhouse e tutta la serie di Miraculous l'ha fatta lei quindi ho collegato le due persone senza senza volerle beh bellissimo bellissimo Miraculous mi sfuggiva anche il nome però ricordavo assolutamente la bambolina con i puoi con la frangetta i capelli neri gli occhi chiari quindi mi assomiglia effettivamente un po' o io assomiglia a lei magari è nata prima lei chissà allora ho trovato quella col tacco esatto esatto ricordavo e poi dopo tu ti sdraiavi sul sul piano perché questa canzone qua aveva un qualcosa con non mi ricordo se ti sedevi o ti sdraiavi col fianco guarda ogni volta sai è un interpretarla diversamente perché dopo la millesima volta forse che l'ho eseguita ormai sono dell'idea che ogni volta deve essere diversa no? ma è replicata in modo uguale noi non siamo un disco cioè magari se un è bravo può suonare come un disco ma non siamo il disco quindi diciamo che l'esperienza del live è qualcosa che anch'io appunto voglio fare cioè al di là del pubblico anch'io voglio fare un'esperienza di me sempre diversa quindi anche via di qua è proprio il pretesto quella canzone con cui chiudo in genere i miei concerti quasi sempre per ridirmi diversa partendo dal mio standard ecco potrei dire che via di qua ormai è il mio standard jazz che io faccio sempre in modo diverso così chi verrà quasi tutti i miei concerti dirà effettivamente anche stavolta non è uguale questo allora vedi qui era quello che io chiamo il nostro primo incontro invece era il terzo allora sì sì il secondo incontro qui siamo in un teatro adesso non so quale Michelangelo a Modena ecco il secondo spettacolo di Federico Rampini parallelismo tra Trump e Rolly Stone qui cantavo qualcosa di Rolly Stone credo in questo momento ed è stato molto bello anche il post perché siamo andati a mangiare in una trattoria ristorante lì vicino ed è stato proprio l'avvicinamento a voi del perfetto sconosciuto vabbè noi ti conoscevamo io ti conoscevo già Valentino ti aveva conosciuto di olivista alle prove poi Jacopo Jacopo e quindi ti abbiamo insomma ti abbiamo tirato dentro come si suol dire però mi sono divertito perché mi ricordo cioè l'atmosfera intima quello che uno può pensare che dei mostri sacri che vanno sul palco a cantare a recitare o altro che si portano in un ristorante un perfetto sconosciuto vabbè adesso proprio sconosciuto dai no c'era già un po' di pregresse poi soprattutto tu avevi fatto delle foto durante le prove molto belle quindi poi è capitato in qualche modo è capitato così quello è il destino sai che fa cadere poi le cose pure sono circostanze album quanti ne hai già fatti? allora in realtà io direi che ne ho fatti allora non considero l'EP di luce propria perché di fatto anche quello fu un album tra l'altro l'album d'esordio l'EP d'esordio poi c'è stato l'oscurità di Guillaume che comunque per me rappresenta il mio primo vero album poi c'è stato questo pseudo album vicina vicina uscito in tempi pandemici registrato col telefonino e adesso c'è un terzo album compiutamente album che è canzoni da museo quindi se considero anche vicina vicina l'album fatto col telefonino direi almeno tre album anche stampati perché mi piace l'idea di considerare un album esistente solo quando stampato questi tre li ho stampati paradossalmente ho stampato anche l'album registrato col telefonino proprio come testimonianza di un tempo di grandi impedimenti in cui quello che si poteva realizzare era qualcosa di casalingo e basta è stato un anno insomma particolarmente difficile però in cui ho tirato fuori tante risorse il 2020 e tra l'altro con quell'album questo lo sa chi l'ha fatto scorrere scoprendo quindi la ghost track una traccia nascosta con vicina vicina io dico scherzando ma perché a volte mi anche io provo imbarazzo verso insomma a volte i miei atti artistici però poi bisogna avere il coraggio di affermarli c'è una traccia nascosta con questa traccia che di fatto è una poesia declamata improvvisata è l'album in cui io mi dichiaro poeta diciamo quel vicina vicina e infatti non a caso poi è seguito un album di poesie divenute canzoni in cui però in questo caso l'autrice dei testi non sono io anche se ho sentito così mie quelle parole questo spesso ci capita quando amiamo tanto le opere le sentiamo nostre sentiamo che qualcuno ha dato le parole che volevamo dire no le ha dette e io le ho le ho rese ancora più mie musicandole attraverso proprio la prospettiva del canto della musica e quindi è venuto fuori un lavoro che per me me lo dico da sola è un gran bel viaggio che deve portarvi lontano e quindi direi tre album tutto questo vedi discorso per rispondere alla tua domanda direi tre album cosa ti ha dato Bologna nella musica e qual è il posto il luogo di Bologna che senti più tuo allora guarda io quasi quando uno questa domanda quasi mi viene da piangere ma mi viene da piangere perché io veramente Bologna la sento quasi come una madre cioè strano dirlo ma è più di una città è più di un luogo è un luogo sacro per me un luogo in cui io ho trovato la mia patria cioè non so come dire è una città che mi ha accolto che mi ha anche cresciuto che mi ha fatto sentire parte di una comunità umana e artistica è qui che ho conosciuto Lucio Dalla con cui ho collaborato ho conosciuto Mauro Malavasi che tra l'altro mi presentò Lucio Dalla ma ho conosciuto tanti altri artisti adesso senza chiaramente citarli tutti Samuele Bersani altre persone comunque sicuramente Mauro Malavasi e Lucio Dalla sono stati e sono tuttora perché anche se Lucio non c'è più Mauro c'è ancora ma delle figure di riferimento e degli amici anche nella vita veri quindi loro mi hanno introdotto in un modo diciamo così anche strategicamente importante nel mondo della musica che poi è diventato anche il mio lavoro oltre che un mio modo d'essere di stare al mondo quindi io ho incontrato in questa città non solo delle grandi anime ma anche la possibilità di sentirmi artista e quindi io devo tutto a questa città cioè infatti ci vivo ci sono rimasti sono venuta qui per studiare filosofia anche perché amavo questa città prima di conoscerla attraverso i racconti dei miei genitori che anche loro avevano studiato qua ecco infatti c'è Iskra anche un grandissimo altro personaggio bolognese e quindi Bologna per me rappresenta casa rappresenta anche un luogo magico e mistico perché ho fatto davvero degli incontri speciali e credo che sia un luogo che fa incontrare in un modo molto particolare le persone e gli artisti tant'è vero che poi per dire un film di Bologna il conte magico sono una dei protagonisti e sappiate che so già questo è un po' insordina posso dirlo ma tornerò anche al cinema in qualche modo per raccontare Bologna quindi è una città che mi ridà che insomma che ho fatto ho costruito delle rassegne ho suonato in tanti luoghi e quando tu mi chiedi un luogo che ami di più non è una domanda che alla quale mi sento di rispondere con la coscienza a posto perché i luoghi sono più di uno non c'è un luogo in particolare te ne posso dire più di almeno ne devo dire due o tre sicuramente e poi cambia anche in base ai periodi perché c'è una Bologna che è la Bologna bella insomma ti potrei dire piazza Santo Stefano no piazza Maggiore piazza San Domenico se dovessi se dovessi uscire in questo momento dove andresti? è questo che ti voglio dire in tempi pandemici io amo anche la Bologna dimenticata io faccio tutti i giorni una passeggiata una passeggiata in solitudine che è proprio secondo me la mia terapia cioè facendo quella passeggiata io faccio un reset che mi rimette a posto e oltretutto mentre passeggio penso elaboro idee è così che in realtà stimolo la creatività e l'ispirazione ultimamente quando eschio faccio più o meno un solito giro che mi porta a passare non so adesso dirò delle vie ma magari a qualcuno non dice niente questa via passo spesso per via Rivareno poi arrivo in cima diciamo ma non passo per le strade principali cioè evito via indipendenza la evito un po' e poi vado in via Altabella perché lì c'è un piccolo supermarket orientale in cui acquisto quintali di tè e hanno tè di tutti i tipi insomma di tutte le e quindi io faccio una tappa quasi quotidiana in quel posto perché mi compro il tè quotidiano e quindi ho tutta una mia quindi anche via sono anche molto affezionata alle Due Torri e a via aspetta via via dei Giudei sì credo sia via dei Giudei che è un'altra via dove c'è anche lì un bar che fa dei tè particolari sono un appassionata di tè pronto? Atino grazie grazie a Red per avermi fatto conoscere una persona meravigliosa come te dice Picchio vedi io devo ringraziare Red è il contrario perché Picchio è veramente un carissimo ragazzo che mi sostiene guarda come pochi altri sempre presente e poi nelle dirette ecco Picchio è l'animatore numero uno di ogni diretta io sono tranquilla anche con me c'è sempre che se facessimo bravo una diretta dove magari per fare una casualità delle cose non c'è nessuno Picchio arriva e ti solleva tutta la dirette quindi Picchio no poi Picchio è davvero un grandissimo fan mi ha aperto dei fan club anzi mi ha inviato dei bellissimi regali che Picchio sappi che prima o poi anche lì farò delle foto insomma mi piace spesso anche mostrargli questi regali anche il calendario mi ha regalato Picchio però ancora siamo nel 2020 quindi caro Picchio magari lo sfodererò questo calendario nel 2021 lui mi ha fatto un calendario con le mie foto poi ha questo stile in bianco e nero Picchio è un artista anche Picchio a suo modo e quindi mi ha fatto tanti regali anzi guarda uno che non mi voglio spostare perché ho gli auricolari se no lo facevo lo mostravo una tazza dove c'è stampata la mia foto bello come è andata l'esperienza col cellulare la ripeteresti una città dove ti piacerebbe portare la tua musica allora col cellulare immagino forse alluda al cd vicino a vicino giusto ma allora guarda cara Lucia ho letto bene Lidia Lidia quindi io ho avuto senso fare quel cd registrato col telefonino in un momento particolare come il 2020 in cui eravamo davvero nel momento della zona rossa impediti in tutto quindi mesi e mesi senza poter andare in studio a registrare eccetera eccetera tra l'altro un momento in cui non conveniva neanche pubblicare delle cose che avevano avuto magari costi di produzione più alti perché si rischiava veramente di disperdere anche il valore delle cose quindi ho optato per un album col telefonino proprio per quel particolare momento in cui desideravo in qualche modo protestare contro delle misure che a un certo punto mi sembravano eccessive almeno nei confronti della nostra categoria che è stata una di quelle più colpite ecco dalla pandemia però al tempo stesso come sempre mi capita diciamo che cerco sempre di legare qualcosa di buono anche dove mi sembra che non ci sia del buono anche perché poi quello è stato un momento di smarrimento in cui alcune cose ci sono sembrate sbagliate subito dopo giuste e viceversa quindi ho pensato di fare questo questo lavoro perché quello potevo fare in quel momento cioè non potevo andare in studio però volevo comunque tenere un filo conduttore con i miei fan con chi ama la mia musica e anche in qualche modo costringerli all'essenzialità più totale è stato tra l'altro un album di cover per quello perché ho come dire rienterpretato piano e voce nella mia cameretta al buio come fosse un concerto in solitudine alcune canzoni di alcuni dei cantautori che ho amato di più e che sono stati per me un po' una guida anche spirituale cioè Lucio Dalla Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco quindi direi che è stato un esperimento un po' irripetibile poi è chiaro che magari il telefonino lo utilizzo a volte anche per appuntare delle idee delle canzoni ma o magari che ne so magari un giorno postumi faranno uscire un sacco di provini registrati col telefonino però è stata un'esperienza un po' irripetibile poi non ricordo l'altra parte della domanda la ripeteresti e poi una città dove ti piacerebbe portare la tua musica vabbè allora ne dico due anche tante città io sono stata fortunata chi mi conosce bene sa che ho anche portato la mia musica fuori dallo stivale sono stata insomma Los Angeles Mosca Singapore Hong Kong tante Istanbul Portogallo insomma Monte Carlo sono stata fortunata ho fatto tanti giri mi ripiacerebbe mi piacerebbe ritornare a Los Angeles non lo nego insomma una città affascinante calda soprattutto e poi ne dico un'altra italiana ma spero di tornare presto a Roma per una cosa bella in teoria dovrei anche tornarci a marzo so già con uno spettacolo sempre insieme a Federico Rampini con l'orchestra quindi picchio leggo già sì anche Modena ma io in realtà guarda dove mi chiamano e ci sono le condizioni giuste per venire io andrei ovunque cioè non è che un artista è un po' come un preto una suora cioè va dove lo chiamano quindi ci sono delle città chiaramente che mi affascinano e vorrei vedere a me piacerebbe per dire anche andare a Shenzhen a vedere Shenzhen la Cina no però e qui sì qui eravamo alle prove deduco dal vestito esatto e io e il maestro Valentino Corvino mi sono divertito un sacco perché avevo un'attrezzatura la più improbabile col buio totale perché non c'erano le luci e adesso se rifaccio le stesse foto con l'attrezzatura che ho adesso ciao saltano fuori delle cose bellissime ma il bello è anche la tua narrazione quando tu farai la tua mostra in base ai periodi in cui hai fotografato potrai raccontare perché hai delle foto così e delle foto cos'ha io credo che là dove ci sia un percorso artistico anche diciamo così i risultati meno efficaci da un punto di vista tecnico comunque rappresentino una narrazione del percorso artistico della persona poi tra l'altro anche il carissimo Gianni da Verona che ci segue che lui è un grande fotografo documentarista perché si fa migliaia di concerti lui lavora sempre con le stesse difficoltà perché purtroppo i concerti sono belli proprio perché sono un po' al buio un po' in penombra quindi se non si è attrezzato in un modo particolare o specifico al massimo è chiaro che il risultato magari viene più sgranata però a volte una foto sgranata può raccontare qualcosa di più di una foto perfetta cioè è un po' anche l'interrogativo questa super tecnologia a volte aggiunge qualcosa all'arte a volte toglie molto secondo me quindi non lo so anche lì l'arte non è per forza tecnologica anzi a Ivana gli è piaciuta la foto quella un po' sfocata che ho fatto con Iskra che quando la abbracci fa sembra un dipinto ah e anche perché io adesso parlando con te no quella di Iskra però era passata molto prima giusto? no adesso che ho messo questa che abbracciavi Iskra però poi te la faccio avere ah ok e beh tu quelle più belle magari con camera no ne ho proprio tre o quattro perfetto io spesso vivo il momento e poi scatto vedi anche questa è una cosa che ti caratterizza ognuno ha al suo modo di procedere ti faccio l'ultima domanda di quelle banali e poi dopo andiamo verso la chiusura perché ho visto che siamo già però insomma dieci minuti ce li abbiamo dai cantare sotto la doccia come hai fatto in molti video com'è? ma è divertente è un gioco anche quello diciamo così a parte che è un modo per sfatare appunto il pregiudizio no sai c'è quel modo di dire io canto sotto la doccia quasi un po' per sminuire no io canto sotto la doccia e poi è stato sempre un gioco diciamo che la realtà dei social network per quanto io cerchi di portare anche io un linguaggio spesso diciamo diverso non voglio dire più elevato però magari più complesso è comunque un mondo che ti obbliga a una comunicazione rapida ed impatto quindi anche io per cercare chiaramente di facilitare questa comunicazione tra me e il mio pubblico che già ho o quello eventuale cerco di farlo attraverso qualcosa che di volta in volta mi diverte mi stimola mi dà e quindi la cosa della doccia la trovavo simpatica proprio anche per prendere in giro a volte chi dice ma io canto sotto la doccia ci sono anche quei cantanti che per sminuirsi alla maniera di chi magari sa che è bello però dice di fronte a un complimento reagisce come per dire no non è vero e quindi era un po' anche un modo ironico per scherzare sul fatto questa me la ricordo anche questa sul fatto della doccia insomma che anche i cantanti veri cantano sotto la doccia allora adesso ti do due minuti di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa e che vuoi lasciare agli altri ma guarda io credo che la cosa che poi è un po' il messaggio forse della della mia musica ecco io voglio essere ricordata con una parola forse direi questo siate ispirati ecco credo di stare su questa terra per essere ispirata e ispirare gli altri adesso Lucio scompare dopo questa mia dichiarazione importante mi hai sentito Lucio si si io ti sento la connessione non ha retto l'importanza di questo concetto comunque vado avanti io diciamo cosa voglio lasciare un messaggio sincero ovvero ispirato non forzato quindi io sto al mondo per ispirare anche gli altri perché credo che l'arte sia un rimando di sensazioni e di ispirazioni e poi felicemente anche come posso dire soddisfatta del del fatto che io possa essere di ispirazione anche per altri no del resto ci sono stati dei maestri o delle maestre che hanno acceso in me il desiderio di fare arte a cui sarò sempre grata posso citare luce ma posso citare che ne so anche marina abramovi c'è una donna io non faccio il suo lavoro ma anche questo c'è l'ispirazione non è detto che venga dallo stesso campo c'è un cantante può ispirare un fotografo un fotografo può ispirare un cantante un quadro può ispirare una canzone io credo molto in questo fenomeno dell'ispirazione che rimanda tra l'altro ad un altrove rimanda ad uno spazio altro in cui si incontrano le anime quindi io questo spero che resti di me cioè il ricordo di un artista ispirata questo e vi dico siate ispirati anche voi nella vita cioè seguite le cose che vi tirano fuori qualcosa non abbiate paura di passare anche per sfigati a volte se vi sentite chiamati a una cosa che non è la cosa che tutti reputano migliore è un po' come la fama non è detto che la fama vada dove c'è ispirazione la fama può essere anche seguire il mercato quindi io spero comunque sempre pur barcamenandomi nel mondo che è fatto anche di mercato spero che il mio messaggio resti sempre ispirato fino alla fine dei miei giorni e adesso vedi come diamo la benedizione e auguro anche a voi di vivere una vita pienamente ispirata poi si può essere cuochi si può essere allevatori di cani si può essere qualunque cosa purché lo si faccia con ispirazione anche non fare niente essere disoccupati ispirati cioè nel senso l'ispirazione è fondamentale non condividere solo cose degli altri ma metterci almeno una puntina di roba propria di qualcosa di proprio si ma guarda quello lo può fare anche un narratore di storia altrui cioè se noi siamo noi stessi mettiamo del nostro sempre è che per essere se stessi bisogna avere del coraggio bisogna accettarsi prima con tutte le cose positive e quelle meno positive magari lavorare insomma per migliorare io credo che insomma a un certo punto della mia vita credo di essere arrivata a un'accettazione forte alla quale comunque lavoro quotidianamente perché poi non è che uno è sempre pienamente soddisfatto di sé però sono fortunata perché insomma sto bene nel mio corpo sto bene con la mia anima a volte sono in conflitto un po' con il mondo ma del resto come diceva come ha detto mio padre qualche giorno fa insomma parlavamo diceva si parlava di cose un po' complicate lui diceva beh comunque del resto finché uno è in vita i problemi le complicazioni ci sono solo quando uno è morto poi non ha più problemi quindi in un certo senso che anche il problema sia uno stimolo per farci sentire vivi ecco esatto progetti da domani ai prossimi sei mesi eh tanti qualcuno l'ho detto già prima di alcune cose non posso neanche parlare però sicuramente come vi dicevo teatro spettacoli almeno due spettacoli quello con Ernesto Assante il mio incontro con Lucio Dalla quello con Federico Rampini Morirete Cinesi poi ci sarà ecco posso dire questo tornerò diciamo così ad occuparmi di una cosa che ho già fatto eh intorno fine febbraio marzo una cosa lunga che mi divertirà molto eh poi insomma avrò degli incarichi ma non voglio svelare troppo posso dire sì che tornerò sul set ma questo l'ho già detto in più di una situazione sarò la voce narrante e eh personaggio che racconta la storia dei 25 anni del May Meeting la storia delle etichette indipendenti però non solo in quel film quindi insomma poi ci sarà chiaramente canzoni da museo insomma spero di portarlo davvero ovunque a partire dai musei ma non escludo certamente anche luoghi altri in cui convogliare le varie arti e poi penso anche sempre a questa città anche come luogo in cui costruire delle cose belle perché poi più si va avanti con gli anni più diventa forte anche un po' l'impegno civile ecco l'impegno proprio nella polis più si è piccoli più il proprio io deve crescere svilupparsi no accettarsi poi arriva un momento in cui vuoi essere anche per gli altri e questa città che mi ha sempre dato molto insomma voglio restituirle altrettanto e adesso tocca a te fare una domanda a me allora lucio perché mi hai voluto fare questa intervista e non solo farai una mostra prossimamente di tue fotografie ci stai lavorando allora mostra quel sì non so quando perché c'è una persona che non dico chi che sta selezionando anche per fare il sito come deve essere fatto sta scegliendo alcune foto tra 500.000 foto che ho fatto quindi ma come dicevi che scattavi aspettando il momento giusto quindi sono tanti questi momenti giusti perché sì ma sono sono 30 anni che faccio foto caspita 500.000 è da quando avevo 12 anni che scatto e poi ci sono tutte quelle in pellicola poi ci sono c'è tutto ci sono anche queste qua che abbiamo fatto vedere c'è di tutto veramente di tutto e ho concentrato ho visto nel dieci anni fa ho proprio fatto un sacco di scatti ero dappertutto ma posso chiederti una cosa vedi ad esempio foto del mail tu ne hai secondo me no ah vedi no se no te l'avrei chieste devo guardarci guardaci il mail non dico con me eh cioè dico con altri anche artisti ci guardo ci guardo però sì perché ho voglia di fare quel passaggio da eh fotografo sconosciuto a fotografo molto sconosciuto perché sono stanco di essere un numero e anch'io voglio essere ricordato prima del passaggio vabbè perché dopo è già tardi e quindi almeno un po' di dire oh guarda come si dice a Bologna calcretin che che ha rotto così tanto le scatole in giro che è riuscito ad arrivare dove voleva arrivare perché il mio messaggio è insistendo e battendo il chiodo finché è caldo e battendo il ferro finché è caldo non me lo ricordo come hai detto sì sì battendo il ferro finché è caldo però perseverandoci si arriva all'obiettivo e non mi accontento perché voglio fare di questo di questa passione un mestiere e emozionare le persone che vedono le mie foto perché poi tutti io dico potrebbero fare i fotografi dipende dalla sensibilità che uno ha e poi posizioni le foto in un contesto corretto altre domande? no basta l'altra domanda era perché mi hai voluto intervistare perché ci conosciamo da troppo tempo perché tra virgolette ti ho stalkerizzato da praticamente la diretta numero uno ah sì vedi non mi ricordavo però nel senso no chiedo 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 è che io non so mai il il limite tra la richiesta e l'obbligo no guarda ti dico la verità non ti ho mai sentito quando uno è molto impegnato no non ti ho sentito inopportuno ma soprattutto io diciamo in questa fase della mia vita ecco questo è un messaggio bello che voglio dare anche a chi mi ascolti in generale allora io sono per me e sono molto anche per gli altri però arrivi veramente a volte a una fase in cui veramente non puoi farlo a volte quindi io spero sempre che nessuno ci rimanga mai male né se non rispondo né se a volte devo dare risposte di fretta perché io faccio veramente di tutto per come dire per esserci per chi in qualche modo mi dà qualcosa però sono anche a posto con la coscienza che se a volte questa roba non arriva per qualunque ragione che magari non dipende neanche da noi ma dalle circostate non succederà niente anzi io lo dico io credo che forse a Natale arriverà il momento in cui staccherò forse veramente per qualche giorno da internet perché non l'ho e io è da anni che non stacco più di un giorno e mezzo dai social network e un po' non lo faccio perché mi sembra sempre di dover aggiornare mi piace anche stare in contatto con gli altri però arriverà un momento in cui mi prenderò qualche giorno per staccare perché non si riesce a stare dietro a tutto ad esempio oggi dovevo fare un'altra diretta ma ho dovuto fare delle cose durante il giorno non ho ancora finito dico o faccio una cosa o faccio l'altra e quindi io spero che questo venga percepito da chi da chi mi segue a volte anche no ma non tu infatti no no dico io che sono io che mi sentivo un po' in colpa perché ci conosciamo ma veramente ogni volta non trovavo il giorno per fare anche perché devi sapere questo che le cose a tirar via le fai subito se anche io voglio fare una cosa un po' più sentita allora bisogna che scelga anche l'occasione adatta se no se no è tutto uguale invece no io che sono il signor nessuno se non guardo facebook no se non guardo facebook per due giorni io ho 150 notifiche e non riesco a starci più dietro perché perdi un giorno non vai più avanti esatto quindi questo è quindi io ripeto io cerco di esserci sempre per le persone care diciamo così che siano della cerchia familiare o degli amici o diciamo delle persone che mi sostengono però so anche tranquilla perché so che comunque faccio veramente di tutto insomma per per farmi sentire no vicina vicina come è intitolato il secondo album ecco per essere una voce amica e una persona insomma amica in un certo senso no ecco vorrei poter parlare a tutti come parlassi sempre al mio miglior amico o alla mia miglior amica questa è la magia anche della musica avvicinarti tantissimo anche a degli sconosciuti perché lì crolla tutto e si rimane di fronte nudi di fronte alla verità dell'esistenza per il mio modo di concepire la musica veramente come la parola delle muse cioè nel senso per me la musica è davvero qualcosa di alto poi può essere un gioco può essere un divertimento può essere intrattenimento però la musica è veramente per me il luogo in cui le muse rappresentano la vita con le sue tragedie le sue e quindi è cosa importante però e quindi avvicina mi avvicina agli altri perché lì si sonda il mistero dell'esistenza quindi ecco se riesco a far quello lì trovo un appagamento è questo concludiamo con domani mattina mi alzo e spengo la sveglia e mi rimetto a dormire un altro po' bella questa io ti ringrazio Roberta salutami Franca quando la vedi te la saluto anzi adesso non c'ho te la chiamo un attimo beh intanto io saluto Picchio Tenace Rock Ivana D'Antonangelo Fernando Caro Faniello Alberto Milesi e chi c'è Lidia Musso Gianluca May Alessandro Tarducci Sara Letizio ecco salutiamo Gianluca che Gianluca a quest'ora dovevo essere in diretta con Gianluca ma dovevo farne potevo farne una oggi Miraggio di Lux era prenotato da un anno più o meno quasi la notte non lo so se era un anno e quindi insomma ci vedremo il 28 comunque con Gianluca May se non capita chissà che ma no il 28 secondo me ce la facciamo sappiatelo fin da adesso e quindi eccoci qua Gianni da Verona e aspetta pure questi hanno scritto il poi anche Nabil Afsa Maria Lenzo Vincenzo Fiasco e Rerar ci ha sono tutti i nomi che mi riecheggiano perché poi Nadia Ferrari Alessandro Lui e non ci legge più perché oltre un certo numero c'è scritto saluto saluto tutti veramente di cuore anzi approfitto Massimo Ripamonti Massimo Ripamonti passate giorni sereni di festa festosi e niente poi ragazzi siamo qua in questo mondo cerchiamo di fare la nostra parte grazie Picchio ma poi avremo modo di farceli questi auguri ancora ancora è caduta aspettiamo se ritorna su perché secondo me gli si è spento il telefono se no proviamo a telefonare e purtroppo non so perché è saltata la linea ecco allora sei in diretta telefonica allora saluto tutti da qui bene ti ringrazio ancora e buona serata carissimi baci abbraccio a tutti e a presto ciao 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 a tutti